Siamo sul molo a San Vito, da alcuni giorni ci sono delle transenne, io sono con il vice sindaco di San Vito Roberto Nardone ma c'è anche il presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Marina di Guardo Tonino Marcucci. Allora vice sindaco, qui c'è un problema, si deve mettere in sicurezza questo molo? Assolutamente sì, è un problema strutturale per il quale ci siamo spesi negli anni con delle richieste alla regione affinché ci sia un finanziamento per la messa in sicurezza del porto di Gualdo, ci sono state da parte nostra, da parte del comune, quindi a spese nostre, un supplemento di intagini in questa settimana e abbiamo scoperto, siamo venuti a capire che ci sono due sifoni che portano l'acqua dal fondo del porto, dalla murata sud e all'interno proprio della passeggiata quindi crea un grosso problema di stabilità. Voi avete fatto degli studi e è emerso che i lavori vanno fatti per renderlo fruibile? Non sono più rinviabili a questo punto, anche per quanto riguarda la stabilità della passeggiata ma soprattutto il ripascimento delle scogliere, ovvero rimettere di scoglie a protezione del porto sia a nord che a sud del porto stesso. Nel tempo questa situazione è andata aggravandosi anche con l'arretramento della ferrovia? Assolutamente sì, perché abbiamo bisogno di fondi strutturali, so che ci sono nella programmazione della regione, la costa dei Trabocchi ne ha bisogno, San Vito è una parte principale, la passeggiata sul molo è uno dei simboli della costa del Trabocchi, quindi abbiamo bisogno di questo intervento da parte della regione, quindi la nostra è una preghiera veramente affinché possiamo avere questi fondi per poter mettere in sicurezza tutto il tratto di costa e anche la foce del Feltrino. Avete fatto regolare richiesta e a quanto ammonta questo? Solo per il porto siamo sui 120 mila euro più IVA per l'importo dei lavori, poi ci sono naturalmente le scogliere che sono qui a ridosso del porto stesso e anche della Via Verde, abbiamo avuto un finanziamento a fine anno per 100 mila euro per una scogliera qui vicino al porto ma è una parte minimale del discorso. Naturalmente dobbiamo considerare anche le attività commerciali che insistono sul porto, quindi due Trabocchi che sono comunque un simbolo del nostro paese e quindi anche per loro va messo in sicurezza il porto perché naturalmente queste attività sono fondamentali per la nostra economia cittadina.